Ah 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 di me ok io vado saltare casa bene 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 adesso il problema che la scorsa volta appena eravamo usciti dove vado qui sopra ma di gioia ce n'è sempre meno cica mi sta cercando mi stanno usando ma i polli non hanno un buono olfatto se fosse stato un cane ma non credo ci siano cani ci sono solo con ieri ora possiamo salire le scale guarda qua che c'è andiamo per di qua no freddi no freddi guardate intorno e usa spazio devo tenere la luce che faccio circa lì devo tenere la luce su circa più che posso freddi che c'ha freddi che c'ha freddi che ho staccato la testa che ho fatto forse no 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 chica devo stare attento sia freddi che cica freddi vuole prendermi alle spalle e cica vuole prendermi da dietro tornate nel vostro polaio si è buggato morirò chica vuole sempre stare sotto il riflettore quella torrota freddi si è alzato lasciamo l'alzato quando lo sentirò dietro di me mi avvicinerò facciamo così non mi avranno vai 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 ho staccato un dente non so cosa ho fatto sembra che l'abbia gli abbia infilato la manovella chica non vedi che ho la luce su di te è inutile io continuo a fissare chica magari freddi non ti fa niente magari freddi non ti fa del male ma io gli ho già data ahhh ve l'ho detto è freddi devo stare attento a freddi se la teniamo lì perché alle mie spalle non si attacca vedete che villani che sono gli animatronici ti colpiscono dove meno non te lo aspetti al buio si nutrono delle mie paure ecco perché si muove chica ok stacca il dentino spento eh fa male sono anche il dentista di orsi io no 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 è la luce su di te chica inutile che ti muovi sei sotto i riflettori tutti ti vedono sappiamo cosa fai quando non ti vediamo ho i filmati li posterò su youtube e farò vedere tutto scandalo drama drama chica colpisce alle spalle le persone vai via la manovella devo rispedirlo l'ho distrutto l'ho distrutto oh ti ho distrutto il fratello che succede aspetta cosa ho fatto ah mi sono nascosto oh no ho distrutto freddi posso andarmene ah l'ho disattivata l'ho colpita le spalle notte numero due siamo tornati ragazzi no no questa roba delle mi chiamo gabby grazie veramente adesso vediamo cosa ma mai una cosa è come windows crasha speriamo non esca allora sarà la mia bambina sì mi darò tutte le attenzioni del mondo grazie no ragazzi no mi hanno detto che c'è la pappa e tela eccola bene vuole attenzioni questo significa che devo continuare a fissarla per il resto della notte e allora facciamo così pappet ti fisserò anche se dobbiamo ricordarci di freddi che lui vuole capire che c'è qualcuno in una stanza altrimenti stacca la corrente immaginate quanto bastardo può essere un orso che viene la mentre giochi a fordrai stai per vincere la matte royale arriva freddi ti stacca la corrente vado a staccargli la testa a borsi ok qualcuno si è mosso sì si è mosso freddi per il suo giro di ronda dove è andato l'orso golosone oh ma non volevi attenzioni ok si è spostata anche cica ora dobbiamo trovare freddi dove ecco lo abbiamo sgamato facciamoli capire ora dov'è la pappet è andata nella seconda stanza brava brava così ti voglio ok sto registrando sì perché prima ho perso anche la registrazione è qua freddi è qua è vicino a casa mia no sta entrando pure brava però dov'è andato quell'orso dell'orso che sta staccando la corrente no non capisco dov'è quando la stacca quando mancavano mezz'ora ok guarda 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 non li vedo tutti e la pappet è qua o è bonnie no è la pappet è la pappet ok lo vedo freddi va tutto bene la pappet si è spostata no perché gli ho dato le attenzioni del mondo quanto cazzo ruolo devo dargliele è buggato ehi inizia voi pappet ho capito devo attirare freddi da me io pensavo che bastasse che suonassi in una stanza per farlo arrivare non è così no 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 quanto brutta non una tre i suoi aborti di fratelli si è portata dietro mi tiene la imm... ooooh ooooh spuchi 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 ora si è spostato freddi mannaggia l'orso chi è questa è bonnie sta per arrivare bonnie secondo giro di sventure porca vacca sapete ora dov'è è nel mio ufficio freddi è tornato la pappet è lì ok ok abbiamo tempo ce lo stiamo facendo ora entrerà bonnie entrerà bonnie mi farà uhu ooooh porca vacca ora lei è qua dov'è dov'è la pappet dov'è la pappet è qua perfetto è perfetto la mia... gli stiamo dando le attenzioni che si merita ottimo siiii yeee uuuu un'ora e non so ormai gli ori infiniti su fernite freddi scongabby Ma, oh, fatemi accendere qua Ce l'avevamo fatta Oh, it feels good to be alive Ragazzi, porca vacca Volevo farvelo uscire oggi, ve lo faccio uscire domani Che per voi sarà oggi Perché pensavo di editarvelo subito E invece, queste notti Sono più difficili di quello che pensassi Ma è così, ormai lo conosco Allora vi caccerò una live su Granni Vi ricordo che questo gioco è soltanto una demo E presto uscirà il vero, del finto Del fanmade The Five Nights at Freddy's Final Night 4 Spero vi sia piaciuto E noi ci vediamo al gioco completo Ciao ragazzi!